Sarà un'edizione speciale dedicata al terremoto quella di Expo Emergenze in programma Umbria Fiere di Bastia Umbra da venerdì 16 a domenica 18 novembre. E proprio a sottolineare questa forte connotazione, la rassegna biennale nazionale dedicata al mondo della sicurezza e dell'emergenza firmata Eptacomf Commercio Umbria è stata presentata a Norcia in occasione delle celebrazioni della ricorrenza del sisma del 30 ottobre, che due anni fa ha colpito il centro Italia. Abbiamo preso questo palcoscenico questa mattina sulla scia del ricordo del terremoto di due anni per poter presentare Expo Emergenze e proprio Expo Emergenze quest'anno parleremo di terremoto. Abbiamo questo evento importantissimo della tour dei soccorritori e con l'occasione andremo a premiare questi soccorritori, diciamo quello più lontano, quello più vicino, quello che magari ha partecipato più agli eventi del soccorso. Quindi siamo veramente soddisfatti di avere come ospiti questi eventi dei soccorritori. Il sisma del 2016 ha imposto una profonda riflessione, reso consapevoli di quanto sia importante preparare sia i soccorritori che la popolazione a fronteggiare queste crisi. Ed ecco che Expo Emergenze quest'anno diventa Lab, si configura come laboratorio di idee, contenitori di eventi, convegni, esercitazioni, esposizioni e sessioni formative per formare e aggiornare nel campo delle emergenze del post-emergenze. Primo soccorso, salute, protezione civile e ricostruzione sono infatti temi che saranno affrontati durante la rassegna al centro fieristico Bastiolo. Invitiamo tutti il 16, 17 e 18 a Umbria Fere a partecipare a Expo Emergenze con l'occasione di ringraziare in modo particolare la regione dell'Umbria, la protezione civile della regione dell'Umbria e ringraziamo tutte quelle forze che partecipano alle Expo Emergenze, dalla Forza Pubblica, Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e tutti quelli che fanno parte della forza. Quindi ringraziamo tutti e vi invitiamo il 16 e 18 novembre a Umbria Fere. Invitiamo tutti e vi invitiamo il 16 e 18 novembre a Umbria Fere.